Nessun metodo in questa follia. Durante un incontro in California, Biden ha dato del dittatore a Xi Jinping, strappando in un istante la laboriosa tela diplomatica che ha portato il segretario di Stato Blinken in Cina, considerato da tutti un punto di svolta dopo che i rapporti tra Washington e Pechino erano precipitati ai minimi storici. Erano solo due giorni fa, ma sono immagini sbiadite davanti all'ennesima gaffe del presidente americano, duramente rimproverato da Pechino. Un'osservazione davvero assurda, molto irresponsabile e non riflette la realtà, contravviene alle pratiche diplomatiche e mina seriamente la dignità politica della Cina, dichiara la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, che aggiunge «è apertamente una provocazione politica». Già l'anno scorso l'inquilino della Casa Bianca, che sostiene di conoscere bene Xi Jinping, diceva che «in lui non c'è un briciolo di democrazia». Stavolta è la vicenda del pallone spia cinese abbattuto sui cieli americani a febbraio a stuzzicarlo. Xi si è arrabbiato molto perché non sapeva che fosse lì. È un grande imbarazzo per i dittatori quando non sanno cosa è successo. Ha buttato lì Biden, che ha l'ossessione della Cina. È il nostro unico rivale e ci sta superando. Dobbiamo darci una mossa, ripete di continuo, spronando i suoi a vincere la competizione militare, tecnologica, commerciale, culturale. Ma l'agitazione ha tradito Biden, già nervoso per i guai del figlio Hunter, e alle prese con l'avvio della campagna presidenziale, a 80 anni suonati.